Due plessi, 1.400 studenti, 170 insegnanti e 40 membri di personale ATA. L'Istituto Belluzzi da Vinci di Rimini ultimi ritocchi per il rientro in sicurezza di lunedì prossimo con un importante risultato raggiunto. Si torna tutti in classe. I ragazzi saranno in classe, i nostri ragazzi saranno tutti sistemati nelle aule dell'Istituto grazie a un lavoro certosino svolto dallo staff di dirigenza, dal referente Covid e ASPP dell'Istituto dai responsabili dell'orario, dai responsabili di plesso. Abbiamo lavorato molto però siamo contenti perché riusciremo a farli stare tutti con noi. Differenzieremo gli ingressi per una questione di sicurezza già che non è possibile ottenere un trasporto differenziato ma differenzieremo gli ingressi in maniera tale che i ragazzi non creino assembramenti e possano ordinatamente accedere all'Istituto. Quindi siamo contenti perché la didattica a distanza resterà come misura parallela e se vogliamo anche sostitutiva della didattica in presenza però siamo contenti di poterli riportare in presenza perché comunque il dialogo educativo si fonda primariamente sul rapporto tra docente e discenti e questo è molto mancato credo sia ai ragazzini delle scuole di ordine inferiore ma anche ai nostri. Abbiamo avuto indicazioni a volte un po' contrastanti o comunque non proprio chiare quindi abbiamo dovuto calcolare con precisione le rime buccali un metro, il docente, i ragazzi due metri però siamo riusciti riorganizzando un po' la disposizione dei banchi e della cattedra a far sì che la capienza fosse tale da poter appunto alloggiare i ragazzi. Quello che abbiamo dovuto fare è stato scompaginare un po' la nostra impostazione perché noi abbiamo due plessi e dei laboratori ubicati nei due plessi in relazione agli indirizzi. Quindi mentre gli anni scorsi avevamo certe classi posizionate in certi plessi in relazione all'indirizzo scelto quest'anno in ragione appunto della numerosità dei componenti della classe e della capienza dell'aula abbiamo dovuto spostarli tra un plesso e l'altro. Però questo comporterà una passeggiata se vogliamo che può essere anche un piacevole momento di svago o comunque di stacco rispetto a quella che è la fissità della posizione che viene loro richiesta. Speriamo che ce la facciano perché i nostri sono quasi tutti maschi anche molto vivaci e quindi speriamo che riescano a mantenere il posizionamento che viene richiesto. Sono stati predisposti 14 diversi ingressi in cui sarà posizionata la segnaletica con tutte le regole. Assegnate aree esterne alle singole classi per la ricreazione, il bar funzionerà come una sorta di asporto, un alunno a classe acquisterà per i compagni. E' stato necessario cambiare la fruizione dei laboratori che restano aspetto fondamentale della didattica dell'istituto. Logicamente dovendo rispettare comunque dei parametri numerici dettati dalla normativa che non sono stati variati nemmeno in situazione emergenziale abbiamo creato classi anche abbastanza numerose. Ciò significa che per entrare in laboratorio in totale sicurezza alcune classi sicuramente si dovranno dividere. Però per noi che nel triennio abbiamo un orario di lavoro per i ragazzi che prevede quasi due terzi di laboratorio, è costante quasi la compresenza di due docenti, quello definito teorico e quello definito tecnico-pratico. Questo farà sì che si possa, anche con l'aiuto dell'assistente tecnico che in laboratorio è sempre presente, garantire l'accesso spezzato della classe al laboratorio, quindi lo svolgimento delle attività laboratoriali in totale sicurezza. Diciamo che il dialogo interistituzionale non è stato sempre efficace. Abbiamo avuto bisogno di chiedere risorse aggiuntive, soprattutto in termini di personale tecnico e amministrativo, ma soprattutto collaboratori scolastici, il cosiddetto personale ATA, a fini di sorveglianza e a fini di pulizia e sanificazione degli spazi. Non abbiamo ottenuto tutto quello che abbiamo chiesto, cercheremo di fare del nostro meglio. Quello che invece non abbiamo avuto bisogno di chiedere sono stati docenti in più, proprio perché i ragazzi ci stanno nelle aule e quindi non è stato necessario sdoppiare le classi. Avremmo voluto un pochino più di supporto, sì, dagli enti locali, questo sicuramente, però comprendo anche le difficoltà perché la situazione è tale da creare sicuramente una confusione generale difficile da gestire. Lei forse si riferisce alle cosiddette classi pollaio, no? Purtroppo quelle sono rimaste, nonostante appunto i proclami della politica, quelli sono proclami, avremmo ormai credo dovuto imparare che quello che viene detto non viene realizzato quasi mai. Le classi sono e saranno anche numerose. Questo è stato fatto da parte nostra anche proprio per correttezza e con la diligenza del cosiddetto buon padre di famiglia, cioè vista la situazione emergenziale dove il rispetto della sicurezza era garantito, si è aderito a quanto la normativa diceva e non si sono ridotte le classi perché non lo si poteva fare e non si sono chiesti spazi in più perché non era opportuno in ragione del fatto che altri potevano averne maggiore bisogno. Quindi le classi saranno anche numerose, però lo sono sempre state, confidiamo nel fatto che i ragazzi si comportino bene e che le famiglie ci aiutino in questo. Cioè nel momento in cui segnaliamo che ci sono comportamenti non propriamente rispettosi o corretti, ci supportino in questo lavoro che è un lavoro di educazione. Ecco, anche educazione civica. L'educazione civica più che un qualcosa di esterno e inserito, anche qui forse in maniera non proprio tempestiva, non proprio corretta in un momento di altra priorità, più che un insegnamento degli articoli della Costituzione vuole essere anche un insegnamento di un comportamento corretto, un comportamento corretto nella gestione della situazione pandemica emergenziale, un comportamento corretto nei confronti di docenti e di altro personale che comunque deve far fronte come può, perché è una cosa nuova per tutti e cercheremo di fare del nostro meglio, insomma.